Gentili telespettatori, buona giornata, è ripartito il pressing di Salvini. Sembrava lì tranquillo, andava a Castagne, che faccio questa domenica. Sembrava tranquillissimo, troppo strano quell'essere tranquillo. Adesso è ripartito di nuovo, sono finite le feste, sono finite le fotografie, i selfie e adesso c'è da lavorare, o almeno ci sarebbe da lavorare, perché non tutti hanno voglia di lavorare. Salvini è uno di quelli che lavora, sinceramente è uno di quelli che si dà da fare. Lo mettete a fare da cosa e lui si impegna. Su questo dobbiamo dire, l'abbiamo criticato sempre Salvini, sempre, sempre, negli ultimi due anni non ne ha azzeccata una. Adesso vedremo che cosa riuscirà a fare realmente, perché il Ministero delle Infrastrutture è un posto dove realmente, se vuole, ne ha di cose da fare. Incontra il comandante della Guardia Costiera, come primo atto da Ministro delle Infrastrutture, poi fa un vertice con i suoi su flat tax, fisco e pensioni. Naturalmente voi sapete che la flat tax di Salvini, quella che lui vuole oggi, non è veramente la flat tax. La flat tax significa tassa piatta tutti al 15%, costo oltre 80 miliardi di euro, irrealizzabile, anche perché se voi fate la vera flat tax tutto al 15%, significa che è incostituzionale, semplicemente. E poi quello che ha meno soldi pagherebbe un po' di più e il ricco pagherebbe molto meno. Quella è la flat tax, tassa piatta al 15%. Quella che vuole Salvini invece è una rimodulazione degli scaglioni IRPEF. Da 0 a 15 mila euro paghi una cifra, da 15 mila a 65 mila paghi il 15%, da 65 mila in poi paghi una tassa molto più alta. Semplicemente è una riduzione degli scaglioni IRPEF e una rimodulazione dei suoi valori. Però lui la vuole chiamare flat tax perché vuole far vedere al suo popolo elettore che lui riesce a fare quello che aveva promesso, in realtà è solo il nome. Flat tax è solo il nome. I confini dell'Italia parla Salvini. Quindi dice che bisogna ristabilire e fare rispettare. Dice che torneremo a far rispettare i confini. Intanto si comincia a ritagliare il suo ruolo nuovamente. Torneremo a far rispettare i confini perché dice che non è pensabile che le navi di tutto il mondo agiscano in tutto il mondo e poi arrivino unicamente in Italia. Quindi, però dobbiamo ricordare a Salvini, scusi Salvini guardi che non è il Viminale quello, ma è infrastrutture. Lui ha la delega alla Guardia di Finanza, può chiudere i porti. Salvini può chiudere i porti. Capite? E così, primo appuntamento del nuovo ministro alle infrastrutture. Salvini ha infatti incontrato il comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Nicola Carlone, il rapporto tra Viminale e Trazione, a Trazione Salvini e Guardia Costiera, allora non guidata da Carlone, non è sempre stato idilliaco, ma quello è il passato e a conferma del fatto che la delega sulla Guardia Costiera rimarrà al Ministero delle Infrastrutture. Il proficuo incontro presente Edoardo Rixi, per imminenti incarichi probabili, è servito a fare il punto anche sull'immigrazione. Attualmente in Sar Libica ci sono due imbarcazioni ONG. Oggi Salvini dovrebbe fare il passaggio di consegne con il ministro uscente Enrico Giovannini, cosa che non era avvenuta con Marco Minniti all'interno, mentre sembra ormai certo che il capo di gabinetto sarà Alfredo Storto, già al vertice dell'ufficio legislativo del MIT, con il ministro Toninelli. Fatto sta che dopo l'incontro con l'ammiraglio Salvini riunisce i suoi uomini, Giorgetti, Bagnai, Bitonci, Borghi, Centemero, Freni, Gusmeroli e Siri. L'incontro è senza sovracuti, si tratta di capire, spiegano nel partito, quali e come si potranno incardinare nell'attività di governo i punti salienti del programma leghista nella difficile situazione attuale. Però nella nota successiva Salvini non esita a dettare i capitoli. Superamento della legge Fornero, estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza. Le previsioni davano per certo che ieri sera, ospite di Bruno Vespa, Salvini avrebbe parlato anche dell'aumento del tetto all'utilizzo del contante, degli attuali 2.000 euro a 3.000 euro, o anche 5.000 euro, come spiega il convinto assertore della possibilità. ci sarebbe un segnale a costo zero che si può dare da subito. Ci sono delle cose a costo zero, quelle che non costano niente, perché la maggior parte hanno un costo. Dice, noi alziamo il contante, quanto costa lo Stato? Niente, gratis. È una cosa che possiamo fare gratis. In realtà, da Vespa, Salvini non parla delle ipotesi, ma di certo presenta la sua agenda economica. Dice, l'importante è bloccare una volta per tutte la legge Fornero, che innalza da 66 a 67 anni l'età per andare in pensione. Dal 1 gennaio. Una follia, dice Salvini. Come Lega stiamo simulando l'avvio di quota 41 con 61-62 anni di età minima, senza penalizzazioni come opzione. E poi c'è la richiesta, dice Salvini, c'è la richiesta anche di moratoria sui distacchi delle utenze, dei morosi. Sulle utenze domestiche si può rateizzare, il problema sono i negozi e le aziende. Una moratoria serve e la chiederemo anche sui mutui. Per concludere la serie di promemoria per Giorgia Meloni, Salvini annuncia il ponte sullo stretto. Dice, la prossima legislatura potrà e dovrà essere quella che passerà ai fatti unendo Sicilia e Calabria. Uno degli impegni del mio ministero. Bene, vediamo se riuscirà questa grande opera del ponte sullo stretto. è un qualcosa che va avanti dai tempi della discesa in campo di Berlusconi, ma nessuno è mai riuscito. Berlusconi aveva avviato il progetto, vi ricordate? Era stato avviato, ma poi alla fine, con la caduta di Berlusconi, tutto si è di nuovo fermato, perché la sinistra arrivata al governo ha voluto subito, nuovamente, fermare tutto. Intanto ritiene Mirabelli del PD che il buon Salvini provi a delegittimare Meloni ancora prima che nasca il governo. E Quarta Pelle, sempre del PD, dice ascoltare Salvini che elenca il suo programma il giorno prima che la Presidente del Consiglio si presenti alle Camere dà idea del senso delle istituzioni. Mentre Osvaldo Napoli di Azione parla di giornata in versione papete Salvini, in realtà quello che sta facendo Salvini di dire il suo programma al posto che la Meloni e al posto che il programma della Meloni è completamente fuori, completamente fuori logica. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie a tutti.